Quindi si inizia a lavorare per una dimensione internazionale dopo aver vinto il primo titolo italiano di maratona di Cesano Bosconi. Era molto emozionata insomma la prima volta. C'avevamo dei riti un po'. Gli anni scorrono veloci e Maura diventa sempre più forte. A questo punto arriva la prima maglia azzurra. Tutte quelle volte che mi incitavi e mi dicevi dai che la maglia azzurra sta arrivando, è vicina, eccola qua. Bella, io ci credevo. È la prima tuta. Maura cara mia! Dopo vent'anni ci vediamo. In quegli anni a Condove ti allenavi con un gruppo di amatori, di atleti che erano praticamente al tuo servizio. Maura Viceconte, l'ennesima vittoria della carriera di questa eccellente atleta in campo internazionale. Per la Piemontese, due ore a 32.26. L'è 98 dopo la vittoria di Franca Fiacconi a New York, dove stabilisce la miglior prestazione italiana, viene poi battuta dalla mia nuova prestazione il 21 maggio del 2000 a Vienna. Giorno che ricordo benissimo perché ero a Milano in occasione della Stramilano ed è arrivata la notizia della tua prestazione. Ero proprio determinata a vincerla perché in qualche modo mi dovevo rifare. E quindi mi allenai come una pazza e andai allo start determinatissima. Dentro di me dicevo o vinco o mi fermo oggi. Le esperienze belle e brutte sono ugualmente formative. Anzi, forse quelle che non vanno bene sono ancora più formative di quelle che invece funzionano alla grande. Ti servono per... In gara ognuno correva per sé ma finita la gara eravamo tutti amici come prima, si andava a scherzare, a ridere tutti insieme. Dopo un'ora e trenta di corsa la Machado attacca lungo il Danubio. Maura ha la prontezza di capire che quella è l'azione decisiva. Abbandona il gruppo delle inseguitrici e si porta in terza posizione. Posizione che conserverà fino all'arrivo. Una felicità immensa per lei, il primo grande risultato di carriera in una maratona per le medaglie, per un titolo. Ed è anche un grande tempo per lei, un cambio di ritmo che l'ha portata sotto le due ore 28 e 30 o due ore 28 e 30.